Bene, ciao raga Ve l'avevo detto che facevo un altro video Però perchè mi piace tanto Sono a letto qui A casa di mia nonna, guardate Sono andato a casa di mia nonna Eeeh Guardate Qua c'è la finestra Un'altra finestra ragazzi Sono a letto sdraiato Ah, vi volevo far vedere Giusto che mi piacerà Ci vado matto a fare i video Quindi ne farò tanti al giorno Allora In questo video volevo provare A fare alcune cose Su minecraft Perchè ovviamente stiamo facendo la serie di minecraft No? E volevo fare alcune cose La prima sicuramente E' di andare A vedere se riesco Però di giorno Se riesco a prendere Eeeh Se riesco a riprendere la roba mia Però non credo Credo che sia scomparsa Però io per sicuro ci vado ragazzi Quindi Andiamo raga Vediamo un po' Se ci riesco Io non lo so Se saranno magnati quelli Ah, comunque oggi è il compleanno di mia nonna Infatti sono a casa di mia nonna E fra un po' comincerà Frambreremo gli ospiti Quindi mi dobbiamo fare il video Bene raga Andiamo Credo comunque che ci riesco a fare tre video Forse di sera Quindi ne farò solo due Forse di sera non ci riuscirò Allora Andiamo a rivedere Andiamo a vedere Se riesco a riprendere la roba Perché io mi ricordo Che lui Eeeh Che io Mi sono rivesto Mi sono rivesto il video Eeeh Era andato tipo di qua Si era andato di qua raga Eeeh Era andato di qua Avevo incontrato il ponte Poi avevo Avevo incontrato Ecco questo qua Poi Era andato di qua Ovviamente Ero sceso Si Mi ricordo Comunque ho visto Già il luogo in cui sono morto Dovrebbe essere Un po' più di qua Con un pirla Ovviamente Ci ero passato ragazzi Nell'episodio scorso Per provare a riprendere la roba Ci ero pure passato Non ci potete credere Ma ci ero passato davanti Quindi ora ci metterò Un po' tanto A rivedere dove Dove stava però Tanto c'ho il letto Poi quindi posso rientrare Pure volendo dormire All'a letto Quindi Potrebbe entrare qualcuno Ovviamente Ciao no Vi presento mia nonna Sto facendo un nuovo video Per youtube No Guardate Questa è mia nonna Presentano io no Stai Stai su internet Stai Stai su Presentati Stai su Oh no Presentati Stai su youtube Sto a fare un video Su un gioco Dai presentati Ciao mi chiamo nonna C'ho una nonna di steve Qua qua vai vai ora E che? Io ne vado? Eh no Tu parla e basta Lo so che non lo vedi Tu parla e basta No Stai su youtube Stai su youtube La nonna che la vuole sentire Da ridere Eh? Va bene? Sì va bene Non fa niente Va bene anche così La luce la posso spegnere o no? Sì sì la luce spegnere Perché non mi serve Capire il motivo perché è accesa poi Eh raga quella era mia nonna Giusto non ci vede tanto ovviamente Poveretto Si è andata un po' la vista Si vede solo con l'ocche laterale Però Un po' si vede Simpaticona Fa sembra simpaticona Sembra simpaticona Si sbellica le risate ragazzi Si sbellica sempre alle risate Sto albero comunque sarebbe molto ideale Per vedere però no Io voglio andare in giro Perché non voglio prendere tempo Ok raga Io mi ricordo che era tipo in un laghetto Vicino un laghetto Voi vi ricordate quando era passato vicino un laghetto? Io sì È la madonna se non lo ricordo Lo qua no Qua mi sa che era il ragno Quando era cascato Che gli ho detto pirla Ah no Bene Bene Allora risaliamo da qua Perché non è Comunque secondo me Lasciamo perdere la roba ragazzi Perché Io in sto giorno qua Ci ho provato Vedete che si sta fa notte Rieniamo A Rieniamo a casa Che secondo me È Il più ideale Andiamo magari Io poi Se non si è cancellato La incontreremo Magari Nelle prossime volte Ok ragazzi Qui non posso risalire Quindi devo salire Dall'altra parte Ok ragazzi Fra un po' Non vedrete niente Non vedrete niente Scusate Quindi Scusate Ma ora Non vedrete più niente Oh C'è uno zombie C'è un zombie Che mazzo Uh Mi ha dato una patata buona Me la mangio Quando Ah no Ok Non c'ho fame Raga Ah giusto Qui dove andai Poi dovevo salire Mi ricordo Me la ricordo La strada Zona Non cascare qua Se no Finisco come il ragno Guarda qua come mi cerca Come mi vuole Più che altro Andiamo raga Arrampichiamoci Lì Dobbiamo andare qui sopra E dopo ci sarà La mia casuccia Ragà La mia casuccia Bella Bella Quindi Devi arrampicarmi Da qui No raga Ho morto Cavolo C'è uno slenderman Chi l'aveva visto Lo slenderman Aspettate Ok C'è la roba Però non devo guardare Lo slenderman Perché se no Credo che non faccia Una bella fine Bene Colli tutto Vai Grande Colli tutto Perfetto Perfetto Bene Raga Ho raccolto tutto Che raga Sento sui passi Ovviamente Guardo E non guardo Perché Non si sa Dov'è Mi sa che Una volta che hanno ucciso Il proprio nemico Mi sa che Si trasportano Da un'altra parte No Cioè Raga Io credo che sia così Dopo Se è un'altra cosa Ditemelo Io credo che sia così Entri Spacchiamo qua So Non vedete niente Dio raga È qua Non so se l'avete Visto Non so perché Non mi ha attaccato Però Si è stati fortunatissimi Ok vai Se te l'hai trasportato Perfetto Sugge sopra Un blocco Che palle Una volta Devo distruggere Un blocco Poi c'è un'altra Andiamo Beh Si però Non mi ti puoi mettere Tra i piedi Se no Io non ci riesco Oh Ok ce lo siamo Levate dalle palle Raga A meno che Non mi condivino Perseguità Per farne Gli slander Perseguitano Aspettate che non vedo Ok ora vedo Oddio Non so se l'avete visto Però mi sa che era là sopra Ok raga Ci siamo Abbiamo questo coso qua Che non serve Per adesso Bene andiamo Andiamo a casuccia Casetta casuccia Stanno ottenendo ovviamente Ai vari mostri Perfetto ragazzi Ce l'abbiamo fatta Una grande avventura Non sto scherzando Dai che avventura era quella Solo che La cosa che mi dispiace di più Che non ho ritrovato la roba Perché avevo un miliardo di cose Eh un miliardo di cose Un po' di cose ce l'avevo insomma Però Peccato non l'ho ritrovato Bene Dormiamo subito Almeno si fa giorno Raga Bene Perfetto Abbiamo dormito È mattina Ora Faremo Quello che stavo dicendo L'altra volta Che non ho fatto in tempo a fare Cioè Allungare la casa Volevo fare Tipo un piano di sopra Dove mettere Scusate tanto se Ogni tanto Faccio così perché Ho appena mangiato Una cosetta piccola Sto digerendo Sentire no I ruti Fabri Geli Faccio continuo Quindi non ve la prendete con me Bene Allora Facciamo direi Qua Sì dai Facciamo così Ai lati Ovviamente dovrò creare tanta Sto tipo di legno Perché O anzi Dovrò raccogliere tanta legno No Dovrò creare tanta Sto tipo di legno Ma cazzo Allora parlo Sto di io me lo dico da solo Ok Andiamo di qua Bene Andiamo Perfetto Bene 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 Ovviamente qua Spaccheremo Un blocco Però aspettate perché Mi sa che non va bene Perché qua Dopo Prendo l'accetta Bene raga Perché qua dopo Io Lo sapete L'avete già capito Dovrò Non va bene Perché io qua Dopo come faccio a salire Che salgo dai lati Quindi mettiamo uno qua Facciamo tang Poi scaviamo Tang E ora si che va bene Bene Ora posso salire Ovviamente spacchiamo sto blocco qua Però spaccalo Bene Ok Poi andiamo di qua Oh no Ho sbagliato Aspettate Attendere Attendere Prego Attendere Prego Attendere Prego Bene Bene Perfetto Così Direi che Va bene Dopo dentro Secondo me Mettiamo Tanti Cosi Allora Intanto Devo andare a raccogliere La legna Ci sono due porcellini Appena Intravisti Quindi potremmo andare lì Scusate Adesso sentite Non dittanto dei rumori Perché C'è mio nonno che va in giro Perché stavo lavorando Per prepararsi al compleanno Ovviamente Chiudo la porta della camera Almeno Sentite meglio Il volume Ho saltato Lo so Bene Eccomi qui Sono tornato Ok Perfetto Ora Oh cavolo Sono cascato Bene Comunque sta venendo Dai Ah boh Interramattimo il video Ci vediamo Dopo quando Vrò fatto Eccomi Ci siete? Ci siete? Sì vai Nice Ok ragazzi Sono ripreso Non ho continuato la casa Perché ovviamente Dobbiamo andare a raccogliere Un altro po' di legna Che non è finita Andiamo alla raccoglie Un pochino di legna Perché Devo ancora finire La casa Perfetto Ah raga Fra un po' Devo romette Pausa al video Perché devo andare a salutare Poi Rivengo Appena ho finito di salutare Ok Perfetto Questo l'abbiamo raccolto Raga Bene Abbiamo qualche albero Pure qua Ah No Tanto non mi serve Per fare un altro letto Quello faccio Vabbè Vabbè Tanto carne Però non ce ne vogliamo Di caccia Ok tanto ce l'ho Un po' di carne Ho fame per caso No Cavolo Non ce ne voglio più fare Bene Raccogliamo un po' di legno Ovviamente Laga La legna è molto utile In Minecraft Soprattutto all'inizio Dopo Quando hai un miliardo di pietra Ciao No So Che fa qua E' mia nonna Di nuovo Sentirete un po' di rumori Bene raga Venderemo ricchi di legno Ovviamente Dovrò raccogliere tanto Ma tanta legna Andiamo avanti Andiamo avanti Perfetto Ok raga Metto un attimo pausa Perché devo andare Ci siete? Ci siete? Nice Bene raga Sono tornato Ero andato a salutare Un attimo Gli ospiti E' niente Sono andato a salutarli Insomma Ora continuiamo No dall'altra parte Ragazzi Io non ci andrei comunque Magari continuerei Per quest'altra parte Si Dunque il mio Il mio Che cavolo si dice Il mio Personaggio Non è stanco Strano Molto strano Come se Un po' di armeri Cosa vi dico Gli azioni Di vacca Un albero gigantesco Raga Perfetto Andiamo a raccogliere Un altro po' di legna Che ce ne serve tantissimo Ok qua Bene Perchè con Un po' di legna Ci devo fare pure Un po' di carbone Fatto in casa Il carbone Fatto in casa Ragazzi Perfetto Una torta Però Andiamo avanti Se per caso C'è qualche C'è qualche Non lo so inglese Che capisce l'italiano Cosa del genere Ditevi a voi stessi Che Sono scemo Sono l'italiano Che è scemo Qualche problema Sono l'italiano Che è scemo Per voi Sono scemo Va bene Questo è riferito Agli inglesi Non è riferito Agli italiani Questo è riferito Agli inglesi Ovviamente È riferito Solo a quelli Cioè Non è avesso Contro gli inglesi È riferito Solo a quelli Che Insomma Dicono ste cose Che vorrebbero Dire ste cose Su Sui messaggi Però ragazzi Io non so come attivarli Serenamente Io metto Tutti i tipi di messaggi Ma non va La community Dove accedere Con tutto l'account Quindi ste cose qua Non le faccio Ok Allora Giusto Creiamoci Questi blocchi qua Direi di dormire Perché si è fatto Un po' di notte Perfetto Mi sono creato Tutti i blocchi Che avevo Ora Dormiamo Bene 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 Ancora il raffreddore Rai là Purtroppo Non mi passa Sto per morire Con sto raffreddore Ovviamente Quando uno sta per morire Bene Ragazzi aspettate Che mi metto Il piccone Così vado a raccogliere Qualcosa Il miniero Quella avevo vista Una caverna Vi ricordate Alla sotto C'era una caverna Mentre stavo uccidendo Quello zombie Ah no Stavo uccidendo Uno zombie Ah no Il maiale Vi ricordate qua Eccolo Stavo uccidendo Il maiale Però attenzione Questo ragno Potrebbe essere Quello delle caverne Che è velenoso Quindi andiamocene via Subito Via Ok non è quello Delle caverne Ragazzi Però è comunque Pericoloso Quindi andiamocene Mangiamo La patata Si aspettiamo Che si stanca Che do a migliare La patata Comunque Questi così qua Io li butterei Perché Sono velenosi E Lo sai che servono Per fare porzioni Però Per adesso Non posso fare porzioni Quindi Ho detto porzioni Bene Prendiamo qua Che lo butto via Poi arrivato giù Si è stancato? Ancora no Cavolo Quando cavolo Resiste Questo personaggio Bene Vieni ragga Ci sono quelli che dicono Bene ragga Non so chi sono Però ci stanno E' stancato? Ah si Me l'aspettavo Bene Andiamo a raccogliere qualcosa Per adesso Di raccogliere qui ragazzi Poi Poi Laggiù se andiamo dopo Perché a mano non ho torcia Posso vedere se salto ogni tanto Ma perché Non vorrei saltare Mi metto giù Almeno non mi salta Bene Stiamo raccogliendo un bel po' di blocchi Ciao ragno Ti ammazzo Bene Ti ammazzo Ah ok Non mi ha aggredito Allora Non l'uccido Bene ragazzi Ottio Eh lo sapevo Sei un cavolo di impostore Lo sai vero Ti ragno al cavolo Io odio ragni Cavola La pietra Non ne ho manco Un po' di pietro Quindi sto prendendo Un bel po' Ovviamente Ovviamente Se muoio qua Non fa niente Perché vengo subito A recuperare La roba Quindi Non c'è nessun problema Dovrò raccogliere Moltissima pietra Ovviamente Ok La La sabbia no Grazie Ah no scusate La terra no Mi imbroglio Sembra con i blocchi Cos'è così Perché mi Mi imbroglio Sapete quando uno Si imbroglia di continuo Beh raga Scusate comunque Lo so Sta cosa qua Che non vi guardo E Dà fastidio pure a me Se io guardare un video così Mi dà fastidio infatti Un po' Però Lasciatelo perdere Cioè fate finta Che vi guardo Bene Dove Ovviamente Costruiremo Pure la parte di sopra La continueremo con la pietra Ovviamente Perché sti blocchi qua Mi servono Per altre cose Poi se me ne avanzano alcuni Vediamo Questo video qua Vi avverto Lo farò lungo Un'oretta Quello che mi esce Quindi continueremo Un bel po' E ovviamente ragazzi Ci ho messo tre ore A pubblicare Quello là Quello scorso Perché Non avevo visto Non Non capivo come pubblicarlo E mi chiedeva Il numero di telefono Dopo alla fine Ho preso Il mio Ho capito Che era Del telefono Ho preso Il mio telefono Ho visto Il numero L'ho fatto E alla fine Sono riuscito A pubblicarlo Mi è arrivato Il messaggio Col codice E sono riuscito A pubblicarlo Ma se mi rifano Un'altra volta così È un po' scomodo Perché ogni volta Arriva il codice Per pubblicare un video Dai Ma che cavolo Uno dice Ma che cavolo No Infatti Che cavolo Semplicemente Che cavolo Scusate se Ogni tanto lagga Però devo vedere Le impostazioni Quando ho finito Questo video Vedo subito Le impostazioni Ragazzi Quello là Dove Quello là Su Quest'app qua Che c'ho Ok Mi vado a creare Subito Un altro piccone Magari questo di pietra Così mi dura di più Ma è finito Ragazzi Oppure perché È brutta La grafica E la registrazione È un po' brutta E vedo di sistemarla Perché so come si sistema Almeno credo Perché dopo non funziona Il mio metodo Allora raga In frattempo ci Creiamo delle porte così Perché mi servono Mi servono per il piano di sopra Ah secondo Giusto Perci Altri di qua Sì Questa è un'accetta di fer Scusa Non ve lo voglio sempre Un'accetta volevo dire Di Di pietra E Un coso di pietra Benissimo Abbiamo tutto Se me lo rimetto qua Mi equipaggio per adesso Questo qua Questo qua Questo Lo metto qua Mi equipaggio Questo qua Ben rispetto Bene Andiamo di qua raga Ah cavolo Mi è scaduta la vita La mia La mia vita è scaduta È scaduta in senso È proprio È scaduta Se quando è un prodotto Scade Cosa del genere Se sposto sempre a web Come quando esco Alla fornace Però Sapete no Già ve l'avevo detto Nel scorso video Ci mangiavo le bistecche Che ho appena cucinato Minchia come è brutta Questo qua Non lo mangia Perché sono ricaricate Di botta Dai Ricaricatevi Ok bene Sono ricarica Sono ricaricate Fatemi ricontrollare Se non scademo Ok no Bene raga Andiamo avanti Andiamo Riendiamo A A rompere un po' di pietra Bene bene Sto andando bene Uh Un altro maialino I maialini qui in giro Ce ne stanno tantissimi Bene Secondo me stanno di più in montagna Secondo me è la mia ipotesi Dopo secondo altri forse I maialini Tutti mi dicono mai Guardare in vuoca il cavallo donato Però in questo momento dico Aspettate ragazzi Che magari Mi tolgo le scarpe E mi stendo un attimino Che magari Registro meglio Perché mi sono più rilassato Scusate dell'attesa Ecco Mi so che non mi vedete proprio bene Però Devo per forza stare così Se no Sto male Fammi sdraiare meglio Ecco Così va meglio Metto così Ah che bello Quei cuscini raga Bene bene raga Benissimo Ok Raccolto un po' di carbone Non c'è voglia più di raccoglie Il carbone Raccogliamo un altro po' Ti prego Non fare pure tu Infame Ti ammazzo Bene Raccogliamo il carbone Non scusa Mi sono brillato La pietra Il ferro Il ferro comunque Prima o poi Spero di trovarlo Sapete perché Perché lo sapete Perché mi serve Perché secondo voi Torcia Aspettate ragazzi Fatevi vedere la formula Bene Questa E' questa quella che voglio io Scusate se metto il dito in mezzo Bene Bene Mi metto qualche torcia qua Che illumina un po' Ecco Per vedere Questi qua li ammazzo Con la spada Bene Sono morti Bene qua Ciò che ciò che Oh c'è proprio uno spawn Di ragni Raga Allora aspettate Subito metto Un coso qua Bene Così che me lo vedo Ho trovato una spawn Però che sedere C'è anche Ah ci sono anche ragni C'è anche uno Uno scheletro Bene Non so cosa sta succedendo Raga Oh C'è uno spawn proprio Lo vedete Vedete C'è proprio uno spawn Vai l'attacco Rattacco All'attacco 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 Ma no Ma esci Scusate Oh raga Scusate Immobilità un po' Ma È così Ok raga Mi stanno massacrando Me ne vado Rompolo lo spawn Rompolo lo spawn Ma no Ma no Rapprende le casse Brutto scemo Vai raga Trompo lo spawn Ma dai Ma va a fallenza Non si può Ah faccio così Dai No Mi sono morto Sono morto Aspetta Ma ragazzi Sono morto male Stai tranquilli che sono Ma dove mi trovo Stai tranquillissimi Non è successo niente Aspettate che magari dormo Dormo magari raga Posso Dai Che palle Non si sta a fa notte Non capito perché non posso dormire Ok Ora posso dormire Nice 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 Bene ragazzi Oh C'ho qualcosa fuori di posto Bene Andiamo a riprenderci la roba di corsa Senza farci beccare Quei ragni maledetti Avete visto? Prima mi sono venuti a attaccare Cavolo Sono proprio lo spawn in zero Alla Gli ospiti ne erano solo due raga Quindi posso ancora registrare un po' di tempo Ok raga Subito tutto Raccogliamo Bene Stando Sono scemi Sono così scemi Che manco Ti vedono Via via Crepate tutti Crepate tutti Via 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 Vai rompi Uh ragazzi l'ho fatto L'ho rotto Via via Andate via Andate via E che dannazione E dai Morite Ma no Mi hanno detto di cosare il coso Robo Ok raga sono finiti dopo tre anni E un po' che c'è co' dentro Sentiamo la webcam Allora prendo questo sì Sicuramente Questo pure Questo pure Questo pure Le ossa sicuramente La carne maccia no Perché non mi piace Eh niente Può bastare così Prendo un po' di carbone Giusto che l'ho trovato Io avevo visto una cosa E qua c'era tipo una to Una cosa del genere Che stavano tipo Alla alle scale Raga E avevo tipo Visto una cosa Ci sono delle scale Perché Ah ok C'è un'altra cesta Guardate Ve l'avevo detto Un libro Qua c'è il caso Dei semi di cacao Ah no Semi di cocomero Buoni lo stesso Comunque stiamo trovando C'è una mela d'oro Ragazzi Una mela Una sella Raga Una sella Una cavolo di sella Perfetto Non lo vedete che Sto stiamo a prendere Bene Perfetto Bene È un secchio Cavolo Siamo attrezzati ora La voglia C'è un sacco di carne poi Accogliamo qualcos'altro Perché ho bisogno Andiamo Andiamoci così magari Ragazzi Ragazzi Ricordate Siete i miei preferiti Perché mi avete supportato molto Per l'inizio dell'account Per l'inizio del canale Scusate Mi avete molto supportato Vi ringrazio moltissimo Vi ringrazio Perché ho già 5 iscritti Lo special Ci saranno 50 iscritti Ragazzi Poi Domani Mi sono dimenticato Di dirvi Vi porterò Case animatronics Vi va bene Vi porterò Tipo Case animatronics Farò Due puntate A puntata Scusate Scusate Tu hai Missione A puntata Niente Vi porterò Case animatronics Ce lo farò Insieme Ragazzi Ci cagheremo Un po' sotto Ovviamente Io ce l'ho finito Non vi spoilerò Niente Su Però La versione android Quindi non si era Specializzata Però ti cagli addosso Lo stesso Bene Sto a raccogliere Un po' di carbone Questo sarà il secondo video In minecraft In assoluto Raga Bene Direi di andare A casetta Casuccia Casetta Casuccia E lasciare qualcosa Ah giusto Le ceste Giusto Che ci sono le ceste Dallo spawn Fatemi prendere Pure le ceste No Questo ragno qua Che è stato bloccato Poveretto Non lo voglio uccidere Perché mi dispiace Oh mio dio Comunque Ricordatevi Che Dopo tutta quella Carne marcia State tranquilli Che la butto Non fa niente Tanto Ce la butto Tutte quanto Ricordatevelo Eh domani Ve lo porterò E state tranquilli Ve lo porto Non sto scherzando Tanto È gratis Ci sarà Vi porterò pure Terraria Eh quanti video Faremo Un miliardo di video Ma per caso Mi sta a seguire Ma perché mi seguo Non mi hai fatto niente T'ho pure risparmiato Scemo Perché mi seguo È fallenza Guarda I ragni sono così scemi Che non capisco Non capisco niente Vedete Allora Fatevi posizionare Le ceste Raga Perché mi servono Metto due qua Va Perfetto Ho posizionato L'accesso Grossa Sto carbonacqua Poi sta terra qua Due porte Perché una la lascio Questi qua tutti Tutti quanti Perfetto Poi anche la lana Anche il Cosa Questo qua Questo 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 pure Ma questa no Questa qua pure Questo sì Questo pure Può bastare Io posso fare direttamente Con il dietro Ah sì ok Con il dietro Ragazzi Può uscire Bene Io continuo La casa di sopra Se non vi dispiace Con Dei blocchi Scelgo Questi qua Anzi no Scelgo I blocchi di pietra Va Che sono Meno rari No Meno rari Cioè non so Per niente rari Se vai là Li raccogli Bene raga Vi ripeto Ho sempre Raffreddore Quindi Non mi guarirà mai Raga C'è un raffreddore Dei cinesi C'è il coronavirus C'è il coronavirus E quindi Non mi guarirà mai Bene Coronavirus Ah I miei genitori Oggi sono andati là Hanno incontrato Un gruppo di cinesi Raga Alla piazzati Così Che venivano Della Cina Un gruppo di cinesi Così L'ha piazzati Davanti al Alla Alla Parrucchieria cinese Trovate 3 4 5 cinesi L'ha davanti Sono impauriti Sono scappati subito Lasciate perdere È successo Un casino Aspettate Magari Mi metto seduto E dove è meglio Perché tanto Sto sopra il letto Quindi Non è che Ah Scusate Sono cascato Ok Bene Ah Giusto qua Devo risalire Andiamo Dai Ohissa Ohissa Comunque ragazzi Non fateci caso La casa di totto Si lo so È da nabi Non fateci caso Eh Ok Direi che può bastare Non è l'importante Che ci capo Bene Chiudiamo No dai ragazzi Cosa lo voglio fa Di Di Legno Non fa niente Lo faccio di legno Prendiamoci il legno Vai Grande Mi piace un po' di legno Tang 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 Dove Sapere un po' di Torce Dove Bene Bene raga Bene 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 Ah Adesso stavo pensando Questo video Di fare Dopo Minecraft Di fare Tipo Di video divertenti Vedevamo Proprio dei video divertenti Sì Infatti dopo Lo facciamo Siete tranquilli Che dopo Li facciamo Vediamo Tipo Dei video divertenti Così Per divertirci Un po' Tipo Diciamo Che tipo Mini Non prova A non ridere Vedete Figo Ho finito Ho fatto il piano Di sopra Bene Spero che questo video Ti sia piaciuto Ragazzi Non sto scherzando Ora Chiudiamo Minecraft Salve Desci E andiamo a vederci Su Su Aspettate ragazzi Voglio vedere se mi è arrivato Un messaggio Quale al telefono Cristiano Ronaldo Vocale Mi ho messo qua Perché è un mio amico Un po' Che non sa tanto parlare Gli ho chiesto Ma ti piace il video Che ho fatto Quello scorso Che è bello Ok Ha detto Cioè Ha detto Che di fare Tanti altri video Ma pure lui C'ha voglia Di vederli A lui piacciono Se a voi non piacciono Al mio amico Piacciono Ah raga Giusto Usciamo Mi sto dimenticando Proprio quello che devo fare Usciamo Andiamo su YouTube Vai raga Ci vediamo Una prova Mezzo a non ridere Mezzina Proprio piccolina Così raga Non tanto grande Insomma Allora non fate caso a questi qua Che io di solito Vedo i video horror Guardate Mamma Scusate Che se clicco video Più divertanti Più divertanti Bene Ok raga Ok ecco Ecco qua Vai raga Andiamo Ecco Sta cominciando Vai Andiamo Allora È un cane È un cane Raga A me fanno troppo Rite ste cose Ma quella Non mi faceva No 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 dai Che c'ha Sì Come Così Vieni Facendo I Sì Sì Ma che Robo Questo Questo è un padre ubriaco Che sta facendo Le cazzate Infatti stanno al bar Ma vede la faccia No Questo è un padre No Non c'è di meglio No Questo qua resiste Raga Non Devo resiste Devo resiste No Questo è resistibile Dai Guardate un film Un volume Un volume Oh raga Non sto parlando Perché non ho parole Dove resiste Devo resistere Devo resistere No Quando manca Poco No No Dai Poveretto Questo non c'è da ridere Ok Oh Ok Quasi è finito Guarda sto video qua Dove vede Oh Guarda Banca pochissimo Ma avete visto Quello è il crescoglietto demoniaco di là No dai questo non fa rire Oh raga come cazzo non la fanno Sono pazzi ragazzi sono pazzi Vabbè dai questo non fa tanto rire Non resista dai resista dai resista Non resista dai resista Non resista Dai 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 Ok raga è finito non posso vedere altre cose Se no mio padre diventa un demone Bene chiudiamo qua Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi ci vediamo nel prossimo Cioè stasera ci vediamo Perché forse raga forse ne porterò un altro Quindi ragazzi vi saluto Guarda un salutone raga E ci vediamo al prossimo Beh